Oh, eccoci qui, stiamo scappando con il nostro amico Bentornati ragazzi su Metrolast Light, siamo con l'episodio 11 E io vi invito da subito a lasciare un bel like per supportare questa serie Ok, qui cosa c'è? Ah, munzioni? Buono, che cazzo? Un tronco, che vuol dire un tronco? Perché? Dove siamo andati a finire? Mezzo là, qua siamo, no? Vabbè, dammi una mano però invece di guardate, no? Oh, bravo Ok, dai, qui siamo dentro, un po' bagnati Un po' bagnati, però l'importante è che siamo comunque Nella, nella zattera qui, che cos'è? Una barca No, però c'è anche un appunto Vabbè, mette i brividi in sto posto Sta pure la nebbia Eh, vabbè, là io vedo un mostro, ma io ve lo dico, lo vedo, lo vedo Guardali, guardali, ma che, che, che insetti sono? Questi sul metro 2033 non c'erano mai Questi sono nuovi, sono mostri nuovi Guardate Sono degli insetti giganti Ma fortuna che non ci vedono Cioè, non ci stanno proprio a cagà Minimamente Eh, calla, ho parlato, io lo sapevo Io lo sapevo Io lo sapevo Ma che, che cos'è Sto mostro Bam, bam, bam Cazzo Io lo sapevo che è andato a finire male Io lo sapevo Qua si ammazzano facilmente Quel cortello ne abbiamo ammazzati due E così Tattà proprio Eh, sì, usciamo di qui Ok, non dobbiamo farli salire In pratica Che cazzo Merda, questi tirano Tirano tutte cose strane Oh, ma che cazzo Merda, fin le munzioni Mitra, mitra Merda Merda Vai giù Vai giù Ok, ce ne sta un'altro Dove, 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 dove,, dove, 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 dove Dove sta Dove sta Mori Pezzo di merda Ok, dai, dai Verona, quanto ci vuole Quanto ci vuole qui ancora Merda Muori, muori, muori Chi è Dai, stiamo entrando in questa galleria Dovremmo Seminarli Bene Ok Merda, 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 merda Ma io è possibile che casco sempre da sta barcarola qua? Vai, vai Boom Embè Embè Mi ricordo dei mostri che c'erano in Tremors Più o meno, una cosa del genere Solo quelli erano un po' più grossi Ah, merda, muori Basta Dove ce l'avevo? Mamma mia, mi stavo a mena tipo a un centimetro dalla testa Vabbè, 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 vabbè Ma te lo dite, non ci avete solo con me Ditelo, vedo cura Medikit, medikit Subito Cazzo Madonna le bombe che c'è stanno qua dentro Le tiriamo tutte insieme? O una alla volta Tutte insieme, ho capito Vai Boom Aiai Ci siamo autocrati uno tsunami Cioè, il tizio, questo tizio qui Ci stava dicendo Di stare attenti a queste larve Questi mostri abbastanza giganti Che Se salivano sulla barca Ce la facendo rovesciare E poi lui scatena uno tsunami Davvero raga Ce l'abbiamo fatta Veramente E spero ragazzi che questo mini episodio Mini perché è durato abbastanza di meno Rispetto a tutti gli altri che sono già usciti Comunque spero che vi sia piaciuto Nel caso lasciate un like, un commento se lo conoscete Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento Qua da Isse Ciao ciao